Buongiorno amici e ben ritrovati qui sul canale di Vivere gli Dividendi. Io sono Luca e oggi vedremo un indicatore che possiamo utilizzare nell'analisi tecnica. Vedremo in sostanza che cos'è il Relative Strength Index, conosciuto con l'acronomio di RSI o anche Indice di Forza Relativa. Soprattutto vedremo un possibile utilizzo di questo indicatore nel trading, quindi vi darò un vero e proprio spunto per una propria strategia di trading. Ma ricordatevi che gli eventuali spunti, oltre a non essere dei consigli all'investimento, devono essere gestiti con un opportuno money management. Inoltre bisogna essere concentrati quando si opera e rispettosi delle proprie regole in maniera rigida. Vedremo questo indicatore sulla piattaforma di PrimeXBT, così potremo mettere in pratica una possibile operatività utilizzando una piattaforma reale. Se poi voleste approfondire questa piattaforma, trovate il link del tutorial qui sopra. E in descrizione avete dei link di affiliazioni che vi permettono di avere degli sconti esclusivi. Ma ora, bando alle ciance, dopo la consueta sigla introduttiva, vedremo insieme che cos'è l'RSI. Eccoci allora all'interno della piattaforma di PrimeXBT e come possiamo vedere in questa piattaforma abbiamo già integrati i grafici di TradingView. TradingView risulta la piattaforma di analisi tecnica più conosciuta a livello mondiale. Questo è quindi uno dei pro che avevamo già evidenziato nel tutorial della piattaforma. L'RSI è uno degli indicatori maggiormente conosciuti e quindi può essere facilmente trovato tra gli indicatori di base. Ecco, andiamo a inserirlo sul grafico. Per facilità lo inseriremo sul cambio valutario maggiormente conosciuto, Euro-Dollaro. Ma si può inserire questo indicatore anche su Crypto, Commodities e Indici presenti nella piattaforma come asset disponibili. Per il momento non preoccupiamoci dei valori da inserire, ma inseriamo solo un indicatore sul grafico. Eccolo inserito sotto il nostro grafico dei prezzi. Come possiamo vedere l'indicatore si compone di una linea che oscilla all'interno di un intervallo che va da 0 a 100. Infatti noi normalmente lo chiamiamo indicatore, ma si tratta in effetti di un oscillatore visto il suo funzionamento. Infatti l'RSI serve per identificare quando prezzo si muove all'interno dei valori di ipercomprato ed ipervenduto. Con l'RSI identificare questi livelli è molto semplice. Infatti normalmente si utilizzano i valori 30 e 70 dell'oscillatore. Questo vuol dire che quando la linea è al di sotto della linea di 30 siamo in ipervenduto, mentre al contrario quando la linea è al di sopra del valore 70 siamo in ipercomprato. I livelli di ipervenduto ed ipercomprato sono due valori importanti in quanto risultano dei livelli anomali del prezzo e avvengono quando abbiamo un forte impulso ribassista o rialzista che fanno allontanare troppo il prezzo della media di periodo. Questo quindi vorrebbe significare che prima o poi ci possa essere un'inversione dell'impulso. Questo potrebbe portare i prezzi a ritornare sulla propria media. Quindi questo oscillatore è utilizzato normalmente per indicare una possibile inversione di trend. Se vediamo quindi questo livello dell'RSI che risulta essere maggiori ai 70, vediamo che poi dopo vi è stato un ritracciamento che ha fatto ritornare il valore dell'RSI verso la sua media. Allo stesso modo è importante vedere quando l'RSI risulta essere inferiore a 30 e come vi possa essere un'inversione passando da un impulsore in bassista a un ritracciamento. Quindi in definitiva vedere i livelli di ipercomprato ed ipervenduto con l'RSI è molto semplice all'interno di un grafico. Basta vedere che la linea sia al di sotto del livello 30 e al di sopra del livello 70 per avere un eventuale segnale di operatività. Ovviamente parlo di eventuale segnale perché non è assolutamente detto che tutte le volte che abbiamo il segnale dobbiamo effettuare un ingresso al mercato con il segno opposto del trend. Ricordiamoci infatti la regola che il trend è il nostro amico ed entrare in inversione potrebbe essere come prendere un treno in corsa. Questo ci porterebbe perdite ingenti. Quindi nell'approcciare la propria strategia dobbiamo per prima cosa studiare e conoscere il mercato. In questo caso dobbiamo conoscere il comportamento di euro-dollaro nel tempo. Inoltre dobbiamo mantenere un money management ferreo e delle regole della strategia rigide e oggettive. Queste regole quindi potremo anche scriverle all'interno del nostro trading journal e avremo sempre a disposizione e a mente queste regole da mantenere. Non considerare le nostre regole infatti ci può portare solamente ad avere forti perdite che possono portare a bruciare il conto e a perdere tutto il capitale. Perdonate se faccio questo appunto ma dobbiamo essere chiari in quanto non vi sono mai modi semplici per arricchirsi e serve costanza e rigidità nelle proprie regole. Per operare nei mercati dobbiamo quindi diventare quasi dei robot. Passiamo ora a vedere uno spunto per poter utilizzare le RSI in una nostra possibile strategia di trading. Questo è solo uno spunto ma ce ne possono essere molti altri. Come primo spunto voglio essere addirittura molto provocatorio e partendo dal presupposto che la maggior parte degli operatori retail perde soldi ipotizzo di utilizzare le RSI al contrario di quanto indicato nei libri. Quindi in definitiva voglio utilizzare le RSI non per un segnale di inversione ma per una segnale di continuazione del trend. Lavoreremo sul cambio euro-dollaro sul time frame 15 minuti in quanto voglio mostrarvi dei trade di breve termine. Impostiamo l'oscillatore RSI con i valori di 80-20 e al posto dei 14 periodi utilizziamo 7 periodi. In questo modo modifichiamo i valori dell'RSI per cercare di filtrare eventuali falsi segnali dati dai livelli di 70-30. Andiamo quindi a settare i valori di 80-20. Ecco quindi che l'RSI si è modificato sotto il grafico. In questo modo avremo un segnale di ipercomprato quando l'oscillatore supera il valore di 80 e avremo un valore di ipervenduto quando il valore scende al di sotto di 20. Presupponiamo inoltre di ricercare un target con rischio rendimento di 1 a 1,5. Questo vuol dire che vogliamo rischiare 1 per ottenere 1,5 di guadagno. Inoltre fissiamo lo stop loss in 2 ATR quindi con un target di 3 ATR. L'Average True Range o ATR è un indicatore creato da Welles Wilder che serve a misurare la volatilità di un determinato strumento finanziario. Andiamolo a inserire sul grafico e vediamo come cresce con l'aumentare del corpo delle candele in quanto indica la volatilità del mercato. Ipotizziamo inoltre di utilizzare un money management del 2% quindi vuol dire che ogni trade io rischierò il 2% del mio capitale. Ipotizziamo di avere un capitale sul conto di 500€. Vi ricordo che con un rischio rendimento di 1 a 1,5 ci basterebbe un win rate del 45% per essere profittevoli. Su 100 trade avremo 45 target il che ci porterebbe a 675€ di guadagno se per ogni trade rischiassimo 10€. La perdita in questo caso sarebbe per 55 trade e quindi avremo una perdita di 550€. Quindi la strategia con un win rate del 45% in questo caso ci avrebbe portato un profitto di 125€. Comunque se questo ragionamento non è chiaro ditelo nei commenti e lo approfondiremo meglio con un video doc. Prendiamo come periodo di riferimento dal 7 di ottobre 2020 al 30 ottobre 2020. Andiamo a vedere il primo ingresso. In questo caso il segnale sarebbe scattato alla fine di questa candela rialzista in quanto l'RSI ha superato il valore di 80. Quindi ci saremo posizionati sulla candela successiva. Visto che l'ATR in questo momento era di 7 pips avremmo avuto uno stop loss di 14 pips e quindi di conseguenza il target sarebbe stato raggiunto a 21 pips. Come possiamo vedere saremmo andati a target dopo circa 4 ore. Visto che abbiamo visto un segnale long ora andiamo a vedere un segnale short. Il segnale sarebbe scattato il 29 di ottobre. Ci saremmo posizionati short dopo questa bella candela ribassista quindi avremmo avuto anche dalla nostra parte l'indicazione del prezzo. In quel momento l'ATR era di 9 pips quindi come potete vedere lo stop avevamo uno stop di 18 pips in quanto era 2 volte l'ATR e il target essendo 3 volte l'ATR era di 27 pips. Anche in questo caso saremmo andati a target dopo un paio di ore. Ovviamente questa strategia non è infallibile vi ho fatto vedere due trade possibili nel periodo però andiamo a vedere quali sono stati tutti i trade fatti in questo periodo di tempo di 23 giorni. Come possiamo vedere dall'immagine i trade nel periodo sono stati 33 e quindi abbiamo avuto 20 target e 13 stop. In questo modo abbiamo avuto un ottimo 60% di win rate con un rischio di rierendimento di 1-1,5. Vi mostro quindi con l'aiuto di un foglio di calcolo il mio trading journal il risultato del conto se avessi tradato in questo periodo con la strategia è con un money management del 2% trade. Come potete vedere la strategia in questo periodo è stata ampiamente positiva ma questo non vuol dire che può essere direttamente messa a mercato ma dobbiamo studiarla per un maggior periodo di tempo. Ovviamente questo è solo uno spunto ma se volete fatecelo sapere ve ne forniremo di altri. Ovviamente il mio esempio è basato su un periodo di troppo piccolo di tempo per dire che la strategia è profittevole ma operando in questo modo per un periodo di tempo di 1-2 mesi possiamo avere 200-300 trade nel periodo e quindi potremmo avere dei dati più affidabili in termini di backtest. Inoltre sarà possibile filtrarli in maniera semplice ad esempio escludendo gli orari notturni. In questo modo si può capire se la strategia può essere resa operativa. Il video di oggi che vi illustra l'oscillatore RSI termina qui. Se questi video sono di tuo gradimento ti chiedo di farcelo capire mettendo un pollice in su al video qui sotto e lasciando il tuo commento al video. In questo modo ci aiuterai a migliorare il canale nell'individuare le tematiche finanziarie di maggior interesse. Inoltre se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e clicca sulla campanella per essere informato ogni volta che verrà pubblicato un nuovo video. E anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti.